cari amiche il progetto di oggi è un qualcosa di diverso andiamo a rendere più belli più carini i nostri cuscini d'arredo possiamo veramente fare un qualcosa di diverso non c'è bisogno di andare a rivestire completamente i nostri cuscini ma possiamo realizzare un abbellimento in questo modo per rendere carini ora possiamo anche mettere delle frange perché no questo poi dipende dai vostri gusti se preferite mettere anche delle frange sotto si possono si possono fare tranquillamente il rivestimento del cuscino è facilissimo prendere la misura del nostro cuscino in questo caso a 40 centimetri basta prendere la misura e andare poi a lavorare il punto io ho realizzato questo punto che è facilissimo da fare anche per le principianti ho lavorato con questo filato a due capi in maniera di andare a rafforzare un pochino di più diciamo nel nostro cuscino è un filato acrilico che adesso andiamo a vedere con l'uncinetto 5 facile da realizzare potete farlo anche leggermente più lungo se vi piace oppure ripeto mettere anche delle frange perché non si può sempre fare potete realizzarlo per qualsiasi misura di cuscino basta realizzare un multiplo del punto che avete scelto e andiamo poi a lavorare questo cuscino particolare è diverso dal solito allora andiamo a vedere il materiale e poi il tutorial il filato scelto per questo progetto scelto il tenerezza è un acrilico 100 per cento sono 100 grammi a gomitolo 400 metri veramente molto bello questo filato consigliano per i ferri due e mezzo tre e per l'uncinetto due due e mezzo questo è il color cammello veramente molto bello poi ne occorre veramente poco per realizzare questo bellissimo cuscino di arredo uncinetto 5 per iniziare il nostro progetto andiamo a lavorare a due capi due fili con l'uncinetto 5 allora per realizzare questo punto deve essere un multiplo di 5 io ho avviato 50 catenelle per un cuscino da 40 centimetri adesso vi realizzo un campione in maniera che se il vostro cuscino ha comunque una misura diversa potete poi adattarla con il campione adesso vado a realizzare dopo le 50 catenelle 1 2 3 4 prendo il filo entro nella quinta catenella e vado a realizzare una maglia alta 2 catenelle conto 5 catenella al basso 1 2 3 4 5 entro nella quinta prendo il filo realizzo una maglia alta una catenella seconda catenella seconda catenella seconda catenella prendo il filo entro nello stesso punto e realizzo una maglia alta proseguo la sequenza con 2 catenelle conto 5 1 2 3 4 5 e realizzo ancora una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta per cui proseguo questo punto e questa sequenza fino al termine della riga per cui sono due catenelle una maglia alta 2 catenelle una maglia alta sullo stesso punto quando dobbiamo chiudere la riga sono sempre due catenelle conto 5 1 2 3 4 5 prendo il filo entro nell'ultima maglia e realizzo una maglia alta una sola catenella e una maglia alta con l'unica differenza all'inizio e alla fine che è una sola catenella ma non ne sono due infatti avviamo 4 catenelle ora tre corrispondono a una maglia alta e una adesso andiamo ad avviare 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta volto il lavoro e vado a realizzare 3 maglia alta sotto come vedete alla catenella la prima la seconda la terza ora andiamo a realizzare nessuna catenella di separazione ma per ogni punto v andiamo a realizzare 7 maglie alte 1 2 3 4 non ho preso bene il filo 4 5 6 7 adesso vado sul punto successivo v e realizzo sempre la stessa cosa vado a realizzare sempre 7 maglie alte non dobbiamo fare nessuna catenella di separazione non occorre per cui andiamo a lavorare tranquillamente per ogni punto v 7 maglie alte 5 6 7 adesso dobbiamo andare a fare chiusura entro nell'ultima catenella che abbiamo fatto maglia alte maglia alta e vado a lavorare quattro maglia alte infatti all'inizio abbiamo fatto 3 catenelle che corrispondono una maglia alta e 3 ma le alte quindi dobbiamo fare quattro perché non abbiamo le 3 catenelle di avvio ecco qui ora si ripete tutto da capo per cui andiamo a realizzare sempre il punto av per cui realizziamo le 3 catenelle più una qui sono 4 catenelle 3 catenelle corrispondono maglia alta e una catenella di separazione prendo il filo entro sempre sullo stesso punto e vado a lavorare una maglia alta ora 2 catenelle entro nella 1 2 3 4 nella quarta maglia alta e vado a realizzare maglia alta 2 catenelle 2 catenelle di separazione vado a ripetere il punto prendo il filo entra nella quarta maglia alta del ventaglio e realizza maglia alta 2 catenelle e maglia alta ancora 2 catenelle ci troviamo alla fine alla fine entro proprio tra le due maglie alte di sotto e vado a realizzare una maglia alta una catenella e una maglia alta adesso il punto si ripete di nuovo con i ventagli per cui ripetiamo ovviamente dalla seconda seconda riga andiamo a ripetere la seconda e la terza per cui la seconda è sempre la stessa dobbiamo avviare 3 catenelle e andiamo ad avviare nell'archetto 3 maglie alte per cui si ripete continuamente non lo ripeto in maniera di non confondere vi basta tornare indietro nel video e lo vedete questa è la sequenza facilissima di questo punto ecco qui ho terminato i due pannelli ho fatto uno due tre quattro cinque sei ventagli completati e poi le misure andiamo a vedere le misure sono esattamente 41 centimetri anche 40 e mezzo e altezza mi sono fermata a 22 centimetri diciamo un pochino più della metà ora dobbiamo andare a cuscire mettiamo la parte davanti questo davanti perché lo vediamo dalle dalle codine per quello volto in questo modo e metto alla parte superiore per col dritto sul il dritto vediamo sempre dalle dalle codine questo il dritto per cui lo vado a girare metto dritto sul dritto maniera che abbiamo la parte al rovescio adesso andiamo a cucire questo la questo laterale corto lungo e il laterale corto in maniera che poi possiamo inserirlo sul nostro cuscino sempre a due capi andiamo a cucire sia con l'uncinetto che colla con una importanza siamo alla parte del nel rovescio così vogliamo cucire con l'uncinetto basta fare una catenella e andiamo a lavorare ogni punto una maglia bassissima vi ricordo che quando andate a cucire con l'uncinetto fate attenzione su giro fate attenzione a non tirare troppo il figlio e controllate sempre che sia abbastanza morbida la cuscitura se non sia ricera ai laterali risulta molto risulta brutto per cui fate attenzione prendiamo ecco in questo modo controllate sempre la tensione del filo e andiamo a cucire se preferite potete cucire anche con l'ago fate con baciare il disegno del punto e maglia bassissima proseguiamo una volta che abbiamo girato quello che abbiamo cuscito andiamo ad inserirlo nel cuscino in questo modo ecco qui vado a togliere poi tutte le codine se lo faccio passare prende ecco qui e abbiamo abbiamo terminato lo mettiamo bene adesso possiamo anche realizzare delle frange sotto facilissime da fare come vedete è facilissimo da realizzare un progetto super facile potete mettere anche delle frange se preferite potete inserirle in questo punto se vi piacciono questo è semplicemente un decoro che si può fare un abbellimento che si può fare ai nostri cuscini ma potete anche mettere delle frange questo dipende poi da dei vostri gusti da come da come preferite caso noi vi faccio vedere anche poi la versione con le frange facile e veloce da realizzare veramente con poco rendiamo il nostro cuscino d'arredo particolare e diverso spero che questo tutorial vi sia piaciuto facilissimo e velocissimo come sempre un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi video vi ricordo sempre che sotto qui all'info avete tutti i link sia del mio blog luanadolcifressi.com e tutti i link sia del filato che dei progetti. Baci